Entra al suo posto Andrea Zanotti se non erro Va in recezione palla nelle mani di Ferrato che chiama in casa Don Cech Stern Ma c'è anche un ottimo muro di Verona Un ottimo muro alzata, scappava leggermente larga Quindi non ha avuto tutte le traiettorie di soluzione Don Cech Stern Però è composto il muro di Verona che non va al più La uscita Zanotti sta anticipando bene Quindi costringe il muro di Padua Il Campo Bianconi era ottima difesa di Zanotti per Verona La riflessione di Bottolo Bravo Zanotti a chiudere bene la territoria di Posto Cech Grazie a tutti